Grazie, siamo a Nocchi, fanno riprendere qua il telecomando Allora Vedo un po' ischierda islamista Oggi siamo un po' ischierda islamista Parlando di cittadinanza c'è anche un referendum che si sta chiedendo Paola, hai qualche dettaglio in più? Sì, è in corso una raccolta firma, ha partecipato So che ha dato la sua adesione anche la segretaria del PD Elish Line Ma è da parte di associazioni, insomma, cittadini E che nella sostanza vuole ridurre, ritornare a quella che era prima il periodo per riconoscere la cittadinanza Cioè adesso è stato portato a dieci anni, ritornare a come era prima che ne bastavano cinque Questa credo sia la sostanza Ok, era solo per chiudere, diciamo, il capitolo precedente Francesca, allora, come stai? Bene, sto stanca Beh, torniamo a parlare, insomma, riprendiamo il racconto che abbiamo interrotto a fine della passata stagione Più o meno siamo sempre da quelle parti Diciamo l'attualità è sempre calda e caldissima in quelle zone Qual è la stretta attualità? Eh, la stretta attualità è che poche ore fa c'è stato un altro attacco Il primo con jet militari a Beirut, quindi capitale del Libano E il risultato ucciso è stato confermato Ibrahim Achil Ibrahim Achil è uno dei due vertici dell'unità d'elite di Hezbollah Che si chiama Unitar Duan ed sono quelli che stanno al confine tra Libano e Israele sostanzialmente Ed era il vice di Fuad Shukr che era il capo di questa unità d'elite ucciso alla fine di luglio È solo l'ultimo degli eventi che hanno caratterizzato l'escalation, si dice così, quelli bravi dicono così L'escalation militare, a un certo punto tra linee rosse e linee rosse E scala sempre E scala sempre, dopo i cerca persone, dopo i walkie-talkie Insomma oggi sono morte l'ultimo dato ma insomma sono destinati a salire a 16 morti e 68 feriti Solo di oggi Allora anche oggi tu ci porti delle immagini e sono diciamo tre capitoli, tre storie La prima che storia è? La prima è il racconto di una cosa che è accaduta la notte di Ferragosto In questa cittadina in Cisgiordania Che è un po' diversa dalle cose che abbiamo visto nei mesi scorsi Non è un campo profughi, non è la sede di nessun gruppo armato È una normalissima cittadina fatta di famiglie, lavoratori, circondata da insediamenti Ma è una cittadina assolutamente pacifica Non perché le altre non lo fossero diciamo in origine Ma perché ha una natura diversa da Jenin, da Tulkarem E che la notte di Ferragosto si è svegliata perché l'imam Invece di chiamare alla preghiera Chiamava i cittadini a proteggere la città Perché stava entrando un gruppo di cento coloni mascherati Col passamontagna e armati S chambellimi Che èva Il rabbe E sceglia Che è un po' diversi C'è un po' diversi E l'abbe Il rada Il rada Un po' diversi Per cui è un po' diversi Ma sono i bambini Per cui è un po' diversi ... l'argo quindi era lì qua. Inizial su donne le scop commit a per fare le scopere straggio. Quindi si tracciate. In questo caso, i miei Ròsidi Bàcnaim, abbiamo già preso l'arribatura. E' preso l'arribatura alle persone, nel frattamento della provincia. ... Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Rashiida è arrivato a Rischal, come tutti gli altri, è rimasto a Rashiida. Quindi abbiamo trovato l'argomento, l'argomento. Abbiamo visto la strada di un'arriamo e il'arriamo. La strada di un'arriamo e il'arriamo. Quasi ci sono i'arriamo. Abbiamo un'arriamo e un'arriamo. Abbiamo un'arriamo e un'arriamo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ... ... ... Grazie a tutti. 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 Torno un attimo solo alle immagini che abbiamo visto perché quelle delle telecamere sono le immagini che gli attivisti danno ai cittadini esattamente per questa ragione, per riprendere gli abusi dei coloni. Quindi le cittadine palestinesi e le comunità beduine soprattutto sono piene di telecamere per testimoniare esattamente assalti come questo. Tulka era un posto dove siamo tornati spesso in quello che ormai possiamo dire quest'anno perché siamo a cavallo del primo anniversario. L'abbiamo vista costantemente peggiorare e distruggersi sempre di più. Alla fine di agosto, io sono andata via il giorno prima che entrassero le truppe per quello che è stato il ride più lungo a Jenin e a Tulkarem dall'inizio dell'offensiva militare su Gaza. Sono dieci giorni d'assedio. Si sono viste delle immagini che ci riportano alle guerre più cruente di questi ultimi anni. Uomini, donne e bambini in fila che venivano trascinati fuori da Jenin. Le immagini di ieri dei cadaveri lanciati dall'ultimo piano delle case a Jenin da parte dei soldati israeliani sono le pratiche sempre più brutalizzate e brutalizzanti e disumanizzanti che l'esercito israeliano sta attuando soprattutto nei campi profughi. I campi come Tulkarem si stanno svuotando. Siamo tornati a visitare persone che avevamo già incontrato e siamo tornati a parlare con gli stessi bambini e quello che vediamo è esattamente la gazzificazione della Cis Giordania. I campi come iniziative a curi di tutte le cose più delle cose qui viva in famiglia che si arrivi alla Ciscia. Ossia delle potele e ravi all'estrani che ci prendete all'estrani. Vedi le potele e ilusu non si c'è una città della Ciscia. Vedi i我們的 città della Ciscia. Il ravi l'estrani che ci rende un potele fischi lì. Gli soli che ilinanzitano un malattare. Questa città della Ciscia. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. rumors. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.